Oh ciao ciao ciao, aspetta ci sono le mosche eh, benvenuti sul mio canale anche oggi, aspetta! Oggi è l'ultimo giorno, poi stanotte il Fabri torna in Italia, ci tornerei anche io volentieri a dire la verità in Italia, ma ho da svolgere questa missione, ormai è diventata umanitaria, va bene, quindi niente, in questo ultimo giorno di vacanza del Fabri, oggi ci dedichiamo un blog fantastico, una daily routine di questa giornata stupenda e cerchiamo di non pensare che è l'ultimo giorno perché altrimenti è triste, hai capito? No, sono un sacco di mosche, eh va bene, allora, e allora buona giornata, Fabri buon ultimo giorno, ciao 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 Tu non hai tanto contento, ma dall'altra parte ogni cosa... Tu non hai tanto contento, ma dall'altra parte ogni cosa... Un po' di solito un mese... Alla safina, si, si è bruciata anche la schiena... Allora, praticamente abbiamo lasciato il Nama Blu, fra l'altro abbiamo lasciato con una recensione fantastica sul Nama Blu, non sul Charme Shake, ma sul Nama Blu si... E praticamente adesso stiamo andando a Socosquea perché il Fabri in realtà parte stanotte alle 4, perciò alle 4 e mezzo, ecco per essere proprio più precisi... E quindi avremo l'occasione di stare insieme anche oggi e faremo la nostra giornata fino a che non si è levato, va bene? Va bene Fabri? Va bene, allora, un bambino funerale, ma fai finita? Ci vediamo in Toscana Sì, va bene, via, ciao ciao Abbiamo deciso di venire qui a prendere un caffè prima che io rientri... Come sono nero per oggi? E' preso il sole eh? Eh, a fare il video nel deserto! Andiamo preso il sole Mamma mia Tra l'altro non vedo l'ora di lavorarci su quel video Sono molto contento, grazie Fabri Da avermi fatto da recista per questo nuovo video Scrivilo, mi raccomando eh, che ci sono io Mamma mia, se lo scrivo... Poi meno male sono io quello vanitoso eh Tu che guardi allo specchio, in continuazione In continuazione, continuiamo... E io sono un artista Ma che vuoi ora? Ah... No, siamo... Siamo presi di mira da uno stalker Mamma mia Allora... No, no... Questo sì, certo E quindi niente, a parte questo Qui prendiamo un caffè E poi... E poi... Sono nero L'hai visto? Siamo neri Non si vede più la macchia Nulla, non si vede più nulla Siamo diventati neri come gli egiziani No, no, no... Ma neri eh, guarda Eh sì Eh... Eh... E allora niente, fra poco vado per fare le prove E poi inizia la mia giornata di lavoro Oggi in competenza Perché ci avrò anche in serale I gradi sono 33 Ma l'umidità è al 110% Lo posso assicurare Va bene Ciao, a dopo allora, via Alla partenza Died Ave Poiki Sì Sì Per Dun Viene Molta Masi Sì Da La Sì e ora dopo il mio concerto preserale siamo venuti a mangiare e siccome il Fabio non può mangiare al Savoy allora io lo seguo in questo posto qui siamo al The Queen Vic in piena Soho e siamo qui perché così mangiamo qualcosina che poi io ricanterò di nuovo alle nove e mezza farò sicuramente le undici perciò intanto mangiamo in questa pausa tra un concerto e un altro va bene? va bene, fermati allora buon appetito a noi e poi si ricanta le canzoni è un caldo clamoroso stasera, un'umidità immensa siamo pieni anche un po' via, ciao 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 che la martina lo canta e lo balla benissimo guarda guarda ciao Sì E' lì che mette apposto la caligia per andare C'è alle 4.35 No 4.10 C'è al volo alle 4.10 il Fabri Di notte E infatti sono le 1.15 E arrivo alle 8.45 Un quarto alle 9 di mattina Ah no, io pensavo alle 9 No, invece è un quarto alle 9 di mattina Ma piove, sento delle gocce No, è impossibile che piova in Egitto Non so come dite il Fabri E poi dopo il Pullman E poi dopo c'è il Pullman Il Pullman ce l'ho Ce l'ha Alle 11.45 Ma mamma mia Che palla Ma te pensa che per un'ora circa Devi uscire da questo aeroporto Ci vuole circa un'ora per uscirci E quindi c'è due ore Insomma, vabbè dai Ragazzi ci vediamo in Italia Eh sì, certo che ci vediamo Lo vedete in Italia A me mi vedete ancora qui Per due mesi, capito? È una roba alluscinante Vieni che facciamo un pezzettino A piedi fino al taxi Caro Fabri Ce la possiamo fare Non ha voglia di partire Io invece avrei tanta voglia di partire Che non ce la faccio più Con tutte queste palme di merda Non ce la faccio più con le palme Lo sapete che io le odio le palme È dalle Maldive che odio le palme Allora Adesso scappo E poi mi faccio mandare la roba per posta Allora ragazzi miei Abbiamo passato una settimana fantastica Che abbiamo fatto veramente qualsiasi cosa Ma la cosa più bella Secondo me Al di là dei nostri momenti di goliardia La cosa più bella che abbiamo fatto È il video per la nuova canzone Dove Fabri è stato bravissimo Ha fatto delle riprese meravigliose Ora bisogna che ci sia La bravura di chi monta Capito? A rendere ancora più bello Questo nuovo video Di questa mia nuova canzone Che uscirà a novembre Ecco anche se io di canzoni non ho più voglia Perché sono pieno di canzoni Canto tutti i giorni Non ce la faccio più E insomma Vabbè a parte questo Il nostro fantastico Fabri Ma ti sei rinvenuto per venire Vedrai che anche andare Sarà più facile andare sai Perché una volta che tu hai passato Poi lo scoglio dell'Egitto L'Italia è una passeggiata No no Ho paura Quando entro dentro là Trovo il check-in Lì c'è Cap C'hai due ore e mezzo Io credo proprio Che non sarà difficilissimo Eh cos'è che ce la puoi fare Bisogna fare Che c'è l'unico Apri all'1.5 Mi pare Sì All'1.5 è già aperto perciò Eh vabbè No certo Va bene Allora Guardiamo un po' Sì ti rinvieni Ti rinvieni Guardiamo un po' Su questa partenza Allora ci salutiamo Si stanno rifigando i tassisti Che volevano il Fabri Tutti lo volevano Ciao Fabri Ciccio Ciao Ti attaccati C'è il wifi Ma che vuoi che ci sia E va via Con la valigia Ciao Vai Le monti sopra Davanti Ok Vai Buonanotte Ciccio Ciao Insomma è partito il Fabri E ritorno a casa E io invece sto qua Ancora Per due mesi